Presentato un nuovo progetto, sostenuto da Terra Nostra col Diretti Veneto e le associazioni sportive per la promozione di un approccio che sia congiunto tra pratica sportiva e le aziende agrituristiche del Veneto. Il tutto per un binomio che vuole coniugare attività fisica da un lato e contesti naturali e buon cibo dall'altro. Parte oggi qui dall'Assemblea di Terra Nostra Veneto questo nuovo progetto, questa nuova scommessa che facciamo con l'agriturismo di Campagna Mica rappresentato da Terra Nostra per la promozione dell'attività e del cibo sano e dell'attività sportiva sul territorio. Questa nuova iniziativa che vuole legare il territorio bellissimo del Veneto con le produzioni meravigliose a marchio Campagna Mica, lo sport per cui fatto da grandi sportivi ma anche da gente comune che faremo arrivare nelle nostre imprese per questo rapporto e ritornare un po' alle origini e alla natura e respirare un'aria sana dopo un'attività fisica sana. Penso che questo progetto di Campagna Mica e col diretti possa sicuramente trovare tutto l'assenso, tutta quanta la volontà degli atleti olimpici azzurri perché alimentazione sana e uno sport sano possono andare sul podio insieme. È legato a questo mondo agrituristico che può rappresentare un'opportunità per il mondo agricolo e una possibilità per fare sport in modo sano, per recuperare le energie psicofisiche in luoghi salutari, in luoghi dove si può recuperare in serenità.